Peppuzzo Partita classificata, io versus stronzo Esperto Modalità Sfida pro Chi vincerà? Guidos oppure Cormonmacher Dai Cormonmacher Bastardo, è scappato Mi hai scappato, grande stronzo Dai Che è VX15 Tocca a te Peppuzzo Direi un bel Impulse Preparati a godere Peppe Ok Joystick c'è Buona fortuna A me Via Preparati a godere Ah! Sì! Sì! Puzzo per te! Sì! Sì! Io da più amico! Ora viene il brutto, beh! Sì! Questa per te! Questo! Sì! Sì! e il cao No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.